A circa metà del lavoro di spoglio dei voti, siamo a circa 2.300 voti su 4.832 sezioni scrutinate, si conferma Sergio Chiamparino con 47% al primo posto, seguito da Pichetto con all'incirca il 22%. In terza posizione a 2% di distacco invece abbiamo il Movimento 5 Stelle con Davide Bono. Al quarto posto Guido Crosetto che ha superato la soglia di sbarramento del 3% attestandosi al 3,6% come lista. E infine Enrico Costa con circa il 2,6% invece lotta ancora per arrivare al 3%. Infine sembra invece destinato a non farcela Filingeri con l'altro Piemonte a sinistra che rimane attestato sull'1%. Filingeri con la soglia di sbarramento del 3.500.